Caravaglia, ma se a lei la rinvierà a giudizio, lei si dimette? Bella domanda. Penso di sì, anche se sarebbe un'ingiustizia perché talmente... Non faccia come Marino, però ho 20 giorni per ripensare. No, no, penso di sì, penso proprio di sì. Cioè lei si dimetterebbe? Sì, sarebbe triste, però è una cosa scontata. È una bella notizia questa. Caro assessore Caravaglia, noi non chiediamo le sue dimissioni perché le ha già annunciate lei pochi mesi fa quando le ha promesse in caso di rinvio a giudizio. Ora noi ci aspettiamo semplicemente che alle sue parole seguano i fatti. Sappiamo che lei è una persona d'onore e quindi attendiamo brevissimo che lasci il suo posto.